Siamo qui a raccogliere le prime nuove firme per lo scioglimento del Consiglio Comunale perché siamo convinti che questa amministrazione sia giunta al capolinea. Abbiamo più volte denunciato in questi mesi, ma da anni, negli ultimi sei anni, un'amministrazione che commetteva e svolgeva la propria funzione in maniera, secondo noi, errata e producendo molti atti illegittimi. Mi sembra giusto mostrare le prime nuove firme dell'opposizione intera che siamo convinti diventeranno 13 e che porteranno allo scioglimento del Consiglio Comunale entro i prossimi 60 giorni. Vogliamo dire, l'avevamo detto, forse alcuni l'avevano detto, tra cui noi, soprattutto noi, avevamo detto e denunciato delle scelte sbagliate. Non siamo stati ascoltati e ad oggi si è arrivato anche a questo in funzione del fatto che non sono state rispettate le opposizioni. Grazie. 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 Grazie.